Le reti ospedaliere legiferate dalla regione Abruzzo negli ultimi sette anni hanno prodotto solo bocciature dal tavolo interministeriale. Ma la cosa più grave è che allo stato attuale la nostra regione è l'unica d'Italia con una rete ospedaliera non validata. Sull'argomento è intervenuta l'associazione Nuova Pescara, chiedendo alla politica di mettere da parte i campanilismi dei capoluoghi di provincia e avviare il procedimento di realizzazione del DEA di secondo livello. La mancata individuazione rischia di rimandare interventi finanziati con le risorse ex articolo 20, mentre lo spauracchio del commissariamento è di nuovo dietro l'angolo. Noi ce l'auguriamo perché dato che negli ultimi sei anni non si riesce a sbloccare questa situazione, occorre un commissario governativo. Su questo bisogna trovare una soluzione. La soluzione la devono trovare e proporla ai politici, l'assessorato e i tecnici della regione. Noi li sfidiamo, li invitiamo a un confronto pubblico per discutere delle scelte fatte ed è come mai sono otto bocciature da parte del Ministero. Una questione campanilistica la definisce Carlo Costantini, consigliere comunale di Pescara e promotore del referendum sulla Nuova Pescara. Non individuare una soluzione significherebbe solo sfasciare la sanità pubblica regionale. I tagliare i confini e utilizzare il modello Nuova Pescara vuol dire tagliare i confini delle AS degli ospedali o in alternativa tagliare i confini delle circoscrizioni provinciali e creare un collegio unico regionale all'interno del quale il singolo eletto non dovrà più rispondere esclusivamente del suo comune o della sua città nella quale è stato eletto ma dovrà personalmente rispondere di fronte a un'intera regione. È evidente che allora c'è bisogno di un dibattito pubblico alla luce del sole che superi qualunque tentazione campanilistica che assuma al centro l'interesse dei cittadini e le necessità della risposta ai cittadini cosa che si può fare soltanto condividendo il metodo della programmazione trasparente, documentata, partecipata, consapevole.